Ciao a tutti, oggi andiamo a lavorare su un esercizio che ci permetterà di connetterci con noi stessi. Quindi andiamo a lavorare su qualcosa che non è vocale, anche se lo è in parte, ma è qualcosa che ci smuove dentro, è qualcosa che ci riallinea con il nostro strumento, che è la voce. Per riuscire ad arrivare a questo allineamento dobbiamo lavorare con una parte importante, che è il nostro secondo chakra, questa zona che sta più o meno all'altezza del nostro osso sacro. E prima di tutto, prima di agire su di lui, dobbiamo cercare di pulirlo da tutte le tossine e da ciò che lo rende così poco pulito e poco connesso con la nostra voce. Andiamo in una posizione seduta, o anche in piedi se preferite, l'importante è avere sempre il peso a metà del piede, in una posizione dritta con le spalle rilassate. In questa posizione andiamo a ispirare ed espirare rilassando l'addome basso, cercando di far entrare l'aria come se il nostro naso fosse all'altezza del nostro basso ventre. Quindi immaginate di ispirare ed espirare come se il vostro naso fosse proprio in quella posizione. Adesso, durante l'espirazione, fate questo suono. Inspiro ed espiro. Continuate per almeno dieci respiri. Questo suono è un suono che ricorda l'acqua e proprio in questo punto su cui stiamo lavorando adesso l'elemento è l'acqua, la nostra vita. E l'acqua può depurarci, può lavarci, può sciogliere tante piccole impurità che ci sono all'interno del nostro bacino. Andate a depurare profondamente tutto ciò per rigenerarvi totalmente. Se vuoi altri consigli come questi o vuoi continuare a seguirmi, iscriviti qui oppure seguimi anche sul canale YouTube.